Congratulazioni a tutti voi per aver vinto il contest. E benvenuti a Fantasy Island. Allora, la tua fantasia? L'isola adatta ogni fantasia a seconda dei bisogni dei suoi ospiti. La tua vita sta per cambiare. Per sempre. Spero tu sia pronta. Il potere di quest'isola è un mistero per tutti noi. L'ha fatta tornare in vita. La tua fantasia? Vendicarmi di una che mi bullizzava. La ragazza più popolare della scuola mi tormentava. Divertiamoci. Oh mio Dio. È davvero lei? Non intendevo questo! L'isola distorce i nostri desideri. Siamo qui per far parte di qualcos'altro. Dovete seguire quella fantasia fino alla sua conclusione. Com'è possibile? Com'è possibile?